E' alto in città il dibattito sulla questione dei nonni e dei punti per l'asilo. Arriva adesso anche la richiesta d'incontro da parte delle famiglie sulla revisione dell'accesso agli asili voluta dalla vice sindaco Tanti. Come sappiamo nella proposta si prevede l'assegnazione di un punteggio maggiore per le famiglie che abbiano nonni disabili, deceduti o residenti fuori dal comune. Come a sottolineare che chi i nonni ce li ha, vivi e vegeti, non meriti un punteggio aggiuntivo come se questi ultimi fossero sempre disponibili o comunque una scelta imposta alla famiglia. Le famiglie chiedono l'incontro prima che la pratica torni al voto venerdì 2 febbraio, slittato dopo il mancato numero legale del Consiglio Comunale di giovedì scorso. I genitori si dicono nella lettera piuttosto confusi sul nuovo regolamento per l'accesso agli asili per i bimbi da 0 a 6 anni. Una notizia peraltro appresa dalla stampa e senza alcun confronto con le famiglie che ora chiedono un dialogo prima del voto di venerdì. Intanto crescono le adesioni alla petizione online lanciata da Matteo Bracciali su change.org. Nei giorni scorsi aveva scritto alla vice sindaco anche un'ex educatrice e scolastica storica del comune di Arezzo, ora nonna, criticando la linea dei nonni sui punteggi di accesso. I bambini, ha scritto Serenella Bellucci, accedano ai nidi come tali e non come nipoti. Grazie. Grazie.